Rossella Di Leo, la tecnica della formazione, non solo tecnica perché sei indaffarata su tantissimi campi. Sì, beh, diciamo che mi occupo soprattutto del discorso immagine della squadra e per quanto riguarda, diciamo, le nuove tecnologie, il web, che sono il sito internet, Facebook, Instagram e Twitter. Dovrai rimboccarti le maniche per portare il campionato italiano Elite Under 23, visto che la Coppa che organizza con il supporto del Team 2003 di Lussana e Presidente Torri, dovrai rimboccarti le maniche per arrivare quel giorno là presente in tutti i campi. Sì, direi che ci stiamo già preparando, è un bel impegno perché comunque sono due giornate impegnative, i campionati italiani sono sempre importanti. Grazie al signor Colleoni c'è stata la possibilità comunque di organizzare queste due corse perché dal punto di vista economico sono un impegno importante. Dal punto di vista organizzativo abbiamo fidato al Team 2003, perciò possiamo dormire sonni tranquilli. È facile dare un voto a fine stagione alla squadra, noi vogliamo darlo all'inizio. Ma la squadra direi che è perfetta, nel senso che è composta da ragazzi che hanno una grinta importante, con delle caratteristiche importanti, a partire da Consonni che comunque ci ha regalato delle grosse soddisfazioni. Minali anche lui comunque è impegnato su tanti fronti, dalla Mona, Ganna, che comunque anche in pista ci regalano delle grosse soddisfazioni. Dove siete presenti? Sul web. Noi siamo su Facebook, dove abbiamo circa 11.000 mi piace, si chiamano così, mi piace. Poi va bene, non piaceremo a tutti, comunque questi 11.000 hanno clicrato mi piace. Siamo su Instagram, comunque come Team Call Pack, dove mettiamo gli aggiornamenti delle foto, su Twitter e poi abbiamo un sito, nel senso che il nuovo sito uscirà settimana prossima e l'abbiamo comunque rimodernato in modo che vada bene anche sui nuovi cellulari. E poi milioni di visitatori su tutto il bici web che ogni giorno elargisce informazioni, elargisce tutto quello che voi proponete appunto per la vostra squadra. Sì, diciamo che cerchiamo di farlo in modo simpatico. Quest'anno abbiamo attivato anche, grazie a Masnada, che comunque si è preso la responsabilità, un diario settimanale che riguarda tutta la giornata e la preparazione dell'atleta, perché era una richiesta che ci perveniva comunque dai tanti amatori attraverso appunto Facebook. Poi abbiamo Manzoni che comunque attraverso i video spiegherà un attimino la sua nuova attività di direttore sportivo primo a livello accompagnatore. Cerchiamo comunque di dare un'immagine giornaliera della nostra squadra. Buon volo o buon viaggio? Quest'anno è il venticinquesimo anno di attività della ditta Call Pack, però è anche il venticinquesimo anno di attività delle gestioni delle squadre Bevilacqua di Leo, nel senso che sono venticinque anni che abbiamo comunque la squadra. E durante il campionato italiano avremo il sogno di riunire la maggior parte di corridori che hanno corso con noi. Li abbiamo già invitati e speriamo di averne tanti il giorno del campionato italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.